Italia 1! Anche papà le ha presi! E adesso le prende cagli! Allegri e divertenti, ma soprattutto... Amore, devo preparare la cena. Ok, io vengo con te. Ok. Più uniti che mai. Ciao, ciao, ciao! Torna l'appuntamento con Tutto in Famiglia. Da lunedì, tutti i giorni alle 19.15, Italia 1.